I grandi campioni della Champions League 2011-2012 raccolti nell'ultima nata di Casa Panini. È sbarcata in edicola la nuova collezione di figurine della nota società modenese sulla massima competizione continentale, sesta consecutiva su licenza ufficiale UEFA e appuntamento attesissimo per numerosi collezionisti. Alla fine collezionare figurine è sempre più un piacere senza età. Fortunatamente i ragazzini si affiancano sempre più spesso anche gli adulti, che con la scusa di stare insieme ai propri figli e nipoti provano e riprovano un piacere che provavano 30-40 anni fa. Per un'edizione che oltre in Italia verrà distribuita in più di 50 paesi in tutto il mondo, nell'album non è stato trascurato davvero nulla. Non mancano certo numeri, statistiche, dettagli e approfondimenti sull'intera competizione, calendario ufficiale, club, giocatori, tecnici e perfino una sezione dedicata alla Champions League femminile. Un nuovo grande classico, si tratta della sesta edizione consecutiva del nostro album ufficiale su UEFA Champions League e devo dire che è il più ricco di sempre. Un album di 72 pagine, 560 figurine. Abbiamo 16 giocatori per squadra con questa scheda completa, ma abbiamo anche la rosa completa di tutti i giocatori iscritti nelle liste Champions, quindi per ogni squadra abbiamo tutte le informazioni, sia sui giocatori che sulle squadre stesse. Abbiamo il palmarès delle squadre nella UEFA Champions League, nelle competizioni UEFA, ma anche nei propri campionati. Quindi una scheda completa per giocatori e per squadre, proprio per seguire al meglio la competizione. Continuiamo a parlare di calcio.